Le video notizie di distribuzione moderna Il video notizie di distribuzione moderna Il video notizie di distribuzione moderna La nuova generazione di bambini dai 5 ai 11 anni L'Alpha Generation che dichiara apertamente Che le api sono in pericolo E se le api sono in pericolo Naturalmente tutta l'umanità lo è In quanto le api sono protagoniste Dell'impollinazione della maggior parte Delle specie vegetali presenti sulla terra Senza le api noi non avremmo gran parte della frutta e verdura Che utilizziamo tutti i giorni sulle nostre tavole Quindi abbiamo voluto come mielizia Lanciare un grido d'allarme E anche invitare tutti a fare qualcosa di utile Per salvaguardare la biodiversità E come diciamo anche qui nello stand Nell'esposizione fatta Dove mostriamo anche lo spot Insieme probabilmente soltanto in questo modo Potremo contribuire alla salvaguardia della biodiversità E provare a fermare questo cambiamento climatico in atto Che è uno dei problemi principali Per il 2022 abbiamo Intanto ci auguriamo di avere una campagna produttiva Migliore di quella scorsa Il 2021 è stata una campagna per il miele davvero tragica Una media produttiva di circa la metà Di soli 6 chili per alveare Quindi assolutamente insoddisfacente E per il fabbisogno del mercato E per la salvaguardia delle aziende Dei soci, degli apicoltori soci Che conferiscono il loro prodotto in esclusiva A noi, a mielizia con api Noi abbiamo oggi una base sociale Che rappresenta 600 apicoltori E 110.000 alveari Gli apicoltori sono ormai diventati Dei veri e propri custodi delle api Perché senza di loro Le api probabilmente Non sarebbero già più su questo pianeta Infatti in situazioni di emergenza Come queste Solo grazie agli apicoltori Che riusciamo a mantenerle in vita